Stazione di Spello. Più di altre città della Valle Umbra, Spello conserva traccia dell'insediamento romano nelle mura, che per più di metà sono rimaste alla base della cinta medievale, nei ruderi dell'anfiteatro, del tempio e delle terme. Con il cristianesimo la città divenne il centro principale della religiosità umbra, prima di subire invasioni e saccheggi con il crollo dell'impero romano. Nel periodo comunale passò ai Baglioni di Perugia, a metà del 1300. In questo periodo si arricchì di diversi capolavori, tra cui la splendida cappella affrescata dal pinturicchio della chiesa di Santa Maria Maggiore, che si trova a dieci minuti a piedi dalla stazione. È proprio il piacere della pittura che si sperimenta con l'artista. Vissuto nella seconda metà del 1400 è considerato il più laico nel suo tempo e tra i meno retorici. Figure grandi schierate in primo piano, tipizzate ma meno compassate rispetto ai canoni, più mobili e con colori vivaci. L'intero centro storico di Spello, in tutto il suo splendore durante l'infiorata del Corpus Domini, è godibile e presenta motivi di interesse, tra i quali altre opere di pinturicchio della vicina chiesa di Sant'Andrea. Ma non perdete la visita della chiesa di San Leonardo, le testimonianze romane e medievali, il giro perimetrale per vedere le porte che conducono al borgo, tra le quali la più bella è Porta Venere. A tavola, con l'olio degli olivi che crescono sui terrazzamenti intorno a Spello, si saltano cereali e legumi, dalla lenticchia alla roveia e al farro, di cui la regione Umbra è tra le maggiori produttrici. Il farro, seminato già dagli italici, costituì la principale cultura comune a tutti i popoli latini e i romani lo introdussero quale alimento base nel vettovagliamento dell'esercito e lo usarono per farne la pulse, ossia una minestra di cereali bolliti oppure focacce senza lievito. Il farro godeva poi di forti connotazioni simboliche e sacrali, tanto che il passaggio della donna nella famiglia del marito veniva celebrato con l'offerta agli sposi di una focaccia di farro. Tipici di Spello sono poi gli Stringozzi, pasta il cui nome deriverebbe dall'anticlericarismo sviluppatosi sotto il dominio dello Stato Pontificio, un po' come un'analoga leggenda narra a proposito degli strozza preti. In ogni caso, l'indirizzo gastronomico di riferimento è il ristorante la Cantina di Spello. Materie prime di piccole aziende agricole della Valnerina, oltre alle verdure dall'orto di proprietà, riforniscono la cucina, che propone coratelle di agnello, pappardelle con baccalà e carciofi, su vele lottata di ceci, piccione alla diavola, gnocchi al tartufo nero di norcia. In omaggio al nome, poi, il locale è ben provvisto di etichette locali e non.